I campioni del mondo della Svezia dominano la prova delle staffette miste ai campionati europei sprint di corsa orientamento a Soave, Verona, per la nazionale delle tre corone che ha preso subito il largo con la prima frazionista, la campionessa del mondo di skyrunning Tove Alexanderson, titolo continentale, conquistato più che meritatamente e con ampio margine sui campioni uscenti della Svizzera, che stavolta deve accontentarsi dell'argento. Bronzo per i finnici, dodicesimi gli azzurri, Caterina Dallera, Francesco Mariani, Riccardo Scalette, Maddalena De Biasi. Purtroppo ho commesso un errore, mi ha fatto perdere davvero tempo, mi dispiace davvero per tutto. Ce l'ho messa tutta e tecnicamente sono soddisfatta. Ho fatto la mia gara vedendo che comunque guadagnavo posizioni, questo mi caricava e ho cercato di dare il meglio per passare il testimone a Maddalena il più avanti possibile. Peccato che non ero molto fresca fisicamente e ho patito molto il fatto di dover andare forte. Gli svedesi hanno chiuso in un'ora 0.2.32 staccando di 36 secondi gli elvetici e di 54 i finlandesi. 5 minuti e 15 il ritardo dell'Italia. 4 i chilometri con 23 punti di controllo da affrontare per i due uomini, 3,7 con 20 lanterne per le due ragazze. Ultima prova degli europei, la sprint knockout di Vicenza con arrivo in piazza Matteotti davanti al palladiano teatro olimpico.